Festa a Gyumri per l'arrivo di Papa Francesco che ha deciso di celebrare la Santa Messa in piazza Vartantans dove sono tuttora visibili i danni causati dal terremoto del 1988. Dinanzi a una ricostruzione che ancora non si è ultimata, il Pontefice ha chiesto di edificare la propria esistenza partendo da tre basi stabili, la memoria, la fede e l'amore misericordioso. Nelle vostre voci, ha precisato nell'omelia, risuonano quelle dei sapienti santi del passato, nelle vostre parole c'è l'eco di chi ha creato il vostro alfabeto allo scopo di annunciare la parola di Dio. Nei vostri canti si fondono i gemiti e le gioie della vostra storia. E se la fede è anche la speranza per il nostro avvenire, bisogna resistere alla tentazione di attenuarne la luce riducendola a un bel libro di miniature da conservare in un museo. La fede nasce e rinasce dall'incontro vivificante con Gesù che ci ama davvero e desidera liberare il cuore dai pesi del timore e dell'orgoglio. Essere veri discepoli del figlio di Dio vuol dire avere un cuore misericordioso anche in questi tempi tribolati. L'amore concreto è il biglietto da visita del cristiano perché Dio dimora nel cuore di chi ama. I cristiani dunque sono chiamati a edificare ponti, superare le barriere della separazione, prendersi cura con coraggio e compassione dei deboli e dei poveri, costruire società più giuste. Sull'esempio di San Gregorio di Narecca ha concluso Papa Bergoglio, riconosciamoci bisognosi di misericordia e poi di fronte alle miserie, alle ferite che percepiamo, non chiudiamoci noi stessi ma apriamoci con sincerità e fiducia al Signore.